Iovovic, Padura Diaz, a tutto braccio, anni e fuori del muro Molfettese. Il solito attacco di Iovovic per Gozev, da spirito no da blanco, cercato una diagonale strettissima. Riesce a salvare De Patti, se poi in lungolinea Galliani trova lo spazio. Iovovic ancora per Padura Diaz, che è immarcabile in questo secondo set. Ciao! Ciao! Grazie a tutti.